amici di fustella rotante un saluto dal vostro andy e benvenuti a questo nuovo unboxing oggi andremo a scoprire cosa si cela dentro la scatola di trismegistus la formula finale il nuovo gioco di daniele tascini e federico pierlorenzi edito da board and dice portato in italia da giochi x vi invito ovviamente come al solito a iscrivervi al nostro canale youtube qualora non l'abbiate già fatto e poi alla fine se vi sarà piaciuto questo video magari anche a mettere un bel pollicione qui sotto ma anche un pollicione all'ingiù che ci piace lo stesso intanto andiamo a scoprirne il contenuto allora ci accolgono un po di ziploc con un po di materiale andremo subito a scoprire il contenuto allora intanto qui abbiamo una piccola ziploc con dei dadini allora sono bellini in plastica piccolini un centimetro personalizzati molto carini e poi c'è un dadozzo da 6 normale poi abbiamo un bel pacchettino di cubetti alla pandemic per capirsi trasparenti gialli e poi una bella ziploc con con un po di altre cose vediamo cosa c'è iniziamo da questa allora qui abbiamo delle tesserine di legno personalizzate con una bella finitura opaca tutte personalizzate con vari i vari disegnini sopra poi abbiamo un po di dischetti di legno nei vari colori dei giocatori e qui sempre dischetti di legno un pochino più grandi ma torniamo alla scatola allora abbiamo due bei mazzi di carte formato standard 63 e mezzo per 88 andiamo a vederne la qualità allora abbiamo allora una leggerissima telatura le carte devo dire sono molto molto sottili e morbide quindi assolutamente consigliato l'imbustamento nonostante la finitura come dicevo ci sia una leggerissima telatura al tatto non sono granché sono molto molto lisce però sembrano comunque al di là dello spessore del della rigidità della carta sembra di buona fattura un bel quantitativo di ziploc regolamento saranno riusciti quelli di giochi x a fare una traduzione a modo lo scopriremo intanto diciamo regolamento bello corposo abbiamo di 28 pagine comprese le comprese le copertine una bella leggenda sul finale andremo poi a vedere torniamo alla scatola planche dei giocatori allora qui abbiamo le planche dual layer con lo spazio con gli spazi per posizionare direi le tesserine non lo so non ho ancora letto il regolamento quindi però un bel dual layer con questi spazi per posizionare le varie cose un bel disegno sul retro ciao qui una bella finitura anche qua una stampa sottelato due tre quattro e cinque planche poi abbiamo un po di fustelle togliamo qualche tessera andiamo a vederne la qualità e lo spessore allora stampa sempre telatina non troppo spesse tagliate molto bene sono venute via della fustella molto molto agilmente una buona rigidità non sono spessissime sono abbastanza sottili però sembrano di buona qualità e poi sotto infine il tabellone devo dire non apprezzo granché queste soluzioni di scatola completamente vuota che ti costringe a mettere il tabellone sul fondo magari un giorno vi farò vedere in un video come io risolvo questa cosa diciamo come ovvio questa cosa perché a me piace il tabellone averlo in cima alla scatola e mettere sopra poi il regolamento quindi ho trovato una soluzione che trovo interessante vi mostrerò tabellone disegno molto molto carino con tutti questi libri l'artwork molto molto piacevole ben fatto anche questo con una leggera telatura una bella rifinitura preciso bene non male per niente come produzione ma siamo arrivati alla fine e quindi questo è tutto per quanto riguarda il contenuto di trismegistus la formula finale è tutto anche per questa volta come ho detto prima se vi va mettete un pollicino in su in giù se vi è piaciuto non vi è piaciuto fate un po voi iscrivetevi a tutti i nostri social e alla prossima restate in gioco ciao ciao